Figlio di un fioraio, appassionato di musica fin da bambino. Carmelo Pagano impara da autodidatta a suonare il pianoforte, la fisarmonica e la chitarra. Inizia a studiare da elettrotecnico. Ma contemporaneamente forma poi un complesso con alcuni amici. Con cui inizia ad esibirsi in tutta la Sicilia presentando canzoni dei Beatles e dei Rolling Stones. Partecipa ad alcuni concorsi canori come cantante e solista. Vincendone uno nel 1965, Le Ugole Verdi. Nel 1966 partecipa al Festival degli Sconosciuti di Ariccia. Non vince, arrivando secondo, ma ottiene un contratto discografico con la RCA italiana grazie a Teddy Reno che, avendolo notato ed essendo colpito dalla bella voce di Carmelo, gli fa da manager. Pochi mesi dopo, vince la terza edizione del Festival delle Rose 1966 con l'amore se ne va. In coppia con Luisa Casali. E battendo artisti notissimi come Jimmy Fontana. I Poo, che presentano Brennero 66, Don Becchi, Little Tony, Polanca, Lucio Dalla, insieme al quale gli viene assegnato ex a equo il premio della critica dei giornalisti. Nicola Di Bari, Gabriella Ferri, Jimmy Fontana, Albano, Pino Donaggio, i Nomadi, ma soprattutto il super favorito Gianni Morandi. Che presenta c'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. La canzone diventa un successo in tutto il mondo. Grazie a Dusty Springfield che la incide in inglese con il titolo GVM Time. Nello stesso anno Carmelo partecipa con successo al Festival della Canzone Invernale di Torino. Partecipa al Festival di Sanremo 1967 con Devi Aver Fiducia in me. In coppia con Roberta Amadei. Ma non arriva in finale. Nello stesso anno partecipa anche al Cantagiro 1967 con Va. Sul retro del 45 giri vi è vivrò. Versione in italiano di My Prior Day Platters. Ed incide la canzone Il Giorno Tutto Giusto. Scritta dal maestro Bruno Canfora e contenuta nella colonna sonora del film Spia Spione. Con Lando Buzzanca. Moltissime sono le sue apparizioni televisive in questo periodo. Tra le tante sono rilevanti quelle a sette voci. Il noto programma musicale condotto da Pippo Baudo. E quella Il Signore ha suonato. Condotto dal maestro Enrico Simonetti. Sempre al 1967 risale la sua partecipazione a Soldati e Capelloni. Film di Ettore Maria Fizzarotti con Peppino De Filippo e Aroldo Tieri e Avendo Cara la pelle. Sempre di Fizzarotti con Lia Zopelli, Gianni Agus e Fiorenzo Fiorentini. Passa poi all'Ariston Records dove tra le altre incide una canzone scritta per lui da Umberto Bindi. Mi hai dato un'anima, e pubblica il 33 Giri Melodie Eterne. Album, Melodie Eterne. Si iscrive alla S, I, A, E, con lo pseudonimo Victor Pagano ed inizia a collaborare con il paroliere Giuseppe Cassia. Con cui scrive alcune canzoni per Rita Pavone. Tra cui Magari Poco Mattiamo. Cambia quindi etichetta, passando prima alla Beat Record, i compagni di Franco De Gemini e poi alla Picci. L'etichetta dello stesso Cassia. Per cui incide nel 1972 Io non vivrò, tu sei lì che mi aspetti. In collaborazione con l'orchestra del maestro Giacomo dell'Orso. Continua ad incidere le sue canzoni. Ma contemporaneamente compone musiche per alcuni programmi televisivi della Rai. A metà degli anni 70 si allontana dal mondo musicale. Pur continuando ogni tanto ad esibirsi dal vivo. Dopo alcuni anni di inattività. Pubblica un nuovo album nel 2008. Con un'intensa rivisitazione di bugiarda incosciente. Successo di Mina. Versione in italiano di La Tieta di Io a Manuel Serrat. La reincisione di L'amore se ne va e due sue nuove canzoni. Questo amore e... Il fine settimana. All'inizio del 2011 con i suoi concerti porta avanti un suo progetto tra pop and swing che consiste in un viaggio musicale nel tempo con brani che vanno dagli anni 40 ad oggi. Di Fred Buscaglione, Adriano Celentano, Sergio Caputo, Natalino Otto, Bruno Martino, Domenico Modugno, Lucio Battisti, Mina, Lucio Dalla, Nicola Regliano, Gino Paoli, Rafael Gualazzi, Pino Daniele, Andrea Bocelli ed altri. Tutti i brani rielaborati ed arrangiati dallo stesso Carmelo Pagano. Il 9 dicembre 2011 ritorna in televisione. Partecipando ai migliori anni. Il programma condotto da Carlo Conti su Rai 1. Presentando L'amore se ne va.